Questo è venuto per te Vuole entrare nei fanatic Nei fanatici vuole entrare Io spero che Battlefield Poi Arcozio esce e gli danno una pista a COD Dio santo che alcuni dei COD dicono Ok dobbiamo sperare Guardate c'era tutte e due quelle belle Ragazzi c'è il dragone Questa è il Krig Il Krig e Bullfrog Mamma mia Bannate Bannate due pezzi di merda Grazie